Come avete notato sono assente da un pochino sul canale, non ci sono aggiornamenti recenti ma non vi preoccupate, non è che ho dimenticato tutto, è che ho voluto cambiare un attimino come gestisco questo canale e ho deciso di realizzare i video creando delle stagioni cioè prima registro una serie di video, un tot di video in modo da permettermi di poter fare una programmazione a medio termine così da poter garantire una continuità temporale a tutte le pubblicazioni questo mi darà modo oltre a questo anche di lasciarmi del tempo libero per poter fare anche nel mentre una serie di live perché ho intenzione di riprendere la programmazione appunto di live insieme in cui volevo spiegare a livello sia teorico e poi pratico alcuni aspetti ho voluto fare questo cambiamento perché prima cosa succedeva realizzavo un po' un video poi non avevo tempo, lo terminavo con termini più lunghi, lo pubblicavo poi prima di ripubblicare quello successivo magari passavo del tempo perché appunto non è che ho tutto questo tempo a disposizione e se lavorando poi sono diventato nonno poi c'è stato un po' di problematica in mezzo e quindi niente in questo modo magari sarò assente per ancora penso un mesetto però da lì in poi per credo fino a tutta l'estate fino a autunno molto probabilmente ci saranno pubblicazioni costanti perché in questo momento sto registrando davvero tanti video sia tutorial che pillole che video teorici con questo vi saluto, a presto e abbiate fiducia che a breve tornerò con un sacco di novità grazie a tutti